Benvenuti. In queste lezioni introduttive per la dietetica cinese cercheremo di osservare meglio quali sono le peculiarità dello sguardo medico cinese innanzitutto e della dietetica in particolare. Esso si centra sugli effetti che gli alimenti hanno rispetto all'organismo umano. Solitamente gli operatori effettuano una valutazione energetica prima di proporre una condotta alimentare. Siccome al centro e come obiettivo finale c'è sempre il portare la persona all'ascolto di sé, potrete al termine di questo percorso, di questo viaggio che faremo insieme, aumentare la vostra consapevolezza grazie alle conoscenze che vi forniremo. La dietetica cinese era tenuta in grande conto dall'antica arte medica e insieme al Qigong consisteva nella pratica quotidiana. Grazie per la visione! Grazie per la visione!